Buongiorno a tutti, ricordatevi che il 15 c'è un PFP qui a Torino sull'arinoplastica e sull'addittiva mammare. Ho pensato che comunque dopo l'intervento live sia diarinoplastica che di addittiva mammare faremo una discussione dove farò vedere eventualmente dei video e su una cosa voglio puntualizzare la nostra attenzione su quelle che sono le proporzioni nasali. Argomento importantissimo, l'arinoplastica è una questione di proporzioni, più le proporzioni sono perfette più la tuaarinoplastica è gradevole ed esteticamente valida. Per cui farò vedere adesso un piccolo clip estrapolato da varie concezioni delle proporzioni nasali in modo che potremo vedere poi insieme come è facile intraoperatoriamente ottenere le proporzioni ottimali. E buona giornata, ci vediamo il 15 qui a Torino. Grazie a tutti.